LFM Costruzioni Generali Amici sportivi buonasera e ben ritrovati con gioco di squadra Il Bari è tornato ad allenarsi questo pomeriggio dopo l'amichevole di ieri contro il San Giovanni Teatino Parleremo di calciomercato, parleremo anche della questione legata a Ciaia E chiaramente tanti argomenti nel corso di questa puntata Avremo ospite con noi nella seconda parte anche Raffaele Pucino, difensore della SSC Bari Però andiamo prima a presentare gli ospiti in studio partendo dal nostro responsabile dei servizi sportivi Enzo Tamborra Buonasera Enzo Ciao, bentrovati Ed è con noi anche Silvio Sisto, detto il Bomber Buonasera In attesa che arrivi il Bomber del Bari, lo abbiamo noi in studio il Bomber Ce l'abbiamo in studio che sei venuto a presentare anche il tuo nuovo brano Sì, il mio nuovo brano E come mai E come mai E come mai Noi ce l'abbiamo, magari lo vediamo, lo sentiamo magari in sottofondo mentre ci racconti anche di questo brano Però voglio dire prima una cosa, mi ha detto Silvio che lui frequenta la palestra con Cristian Siciliani Lo salutiamo, lo salutiamo Cristian Siciliani da Roccarazzo Gli effetti sono un po' diversi, voi abbiamo una montagna di muscoli, tu vuoi fare un altro tipo di preparazione perché insomma Ciao Cristian Ciao, ciao, buona serata a voi Sì, sono preparazioni diverse, carichi diversi No, ma lui va spesso di domenica quando è chiusa Dicevamo Silvio del tuo brano, adesso magari dalla regia lo vediamo e lo sentiamo in sottofondo mentre ce lo racconti Eccolo qui Sì, è un brano che non mi aspettavo che aveva così tanto successo, vi dico la verità Però in tre settimane abbiamo fatto già 800.000 visualizzazioni Mi stanno chiamando in parecchi locali, in parecchie discoteche come hanno già visto Estivissimo proprio Sì, sì, molto molto Dove l'hai registrato? Allora, l'abbiamo registrato a Polignano, Monopolis, a Belletri, Conversano Abbiamo girato un po' di punti Lo vogliamo sentire un po'? Come no Sentiamo Mare gelato e caffè Poi parte una canzone del Silvio nazionale Quando a tutti che vale sgridava per te Entro ed esco dove vai C'è Silvio Sisto a Dubai Tutto passa anche la moda Ma il bomber no, non passa mai Non ti vedo fra dove sei Con l'invidia non crescerai Nuovo moto che canterai E come mai? Esco, torno mattina presto Stasera c'è una festa Tu invece cosa fai? Dove vai? Insisto E allora, adesso abbiamo sentito anche il ritorno E come mai? E come mai? Infatti adesso tutta la Puglia, anche in tutta Italia, perché mi seguono un po' dappertutto Appena è la parola E come mai? Entrate nel cervello, adesso non esce più Cominciamo con E come mai oggi le domande E come mai? Cristiano, E come mai? Cominciamo così, Enzo Cominciamo così Come mai Ciaia non è arrivato in ritiro col Bari? Come mai non è arrivato Ciaia in ritiro, Cristiano? Beh sì, era atteso questo pomeriggio In realtà le visite mediche a cui si è sottoposto questa mattina Non erano le uniche Ma c'è stato un ulteriore supplemento di indagini in giornata Perché il Bari di fatto vuole vederci chiaro e vuole scongiurare qualsiasi problematica Legata al tendine rotuleo del ginocchio destro Che ha tormentato Ciaia nelle stagioni 2021-2022, 2022-2023 Se dovesse arrivare risponso positivo Il calciatore domani raggiungerà il ritiro di Roccaraso Altrimenti il Bari rinuncerà all'affare Perché di fatto sarebbe un affare a titolo definitivo E il Bari non vuole correre alcun rischio Vi devo dire che al momento le sensazioni non sono positive Quindi è molto probabile che possa saltare l'arrivo di Ciaia a Bari Però molto dipenderà da quest'ultima visita di controllo Avvenuta in giornata Domani ne sapremo di più Però al momento le sensazioni non sono positive E si va verso una chiusura di fatto dell'affare Ciaia Insomma rischia di saltare il primo over C'è una notizia buona e una negativa La notizia buona è che si fanno dei controlli evidentemente molto accurati Perché è giusto che si capisca sin in fondo Cos'ha un giocatore prima di prenderlo Perché a volte succede di prendere un giocatore un po' a scatola chiusa E poi vengono fuori tutti i problemi L'anno scorso La notizia negativa è che forse il giocatore con più curriculum Che stanno andando a prendere alla fine non viene Quindi continuiamo ad essere al momento una squadra che ha fatto un mercato con dei giovani Diciamo così Perché Ciaia è l'unico giocatore un po' strutturato Che ha parecchie partite in Serie B Lo scorso anno ha vinto il caperato col Como E' brutto dirlo però si sta diciamo ripetendo la storia dell'anno scorso Che l'allenatore non ha a sua disposizione un organico per fare una preparazione come si deve Perché anche perché stiamo più o meno al confine della prima settimana di ritiro Questa è la prima intera poi ci saranno tre giorni Cristian Sì sì no è così anche perché Longo praticamente in ogni intervista lo ribadisce e pungola la società In sostanza anche ieri ha ribadito servono 5-6 giocatori importanti che andranno di fatto poi a formare l'ossatura di questa squadra 5-6 titolari parliamo di un portiere, di due difensori, di un centrocampista, di un trequartista Anche perché potrebbe appunto saltare Ciaia e di un centro avanti Oltre poi a delle alternative in panchina Però 5-6 titolari Longo se li aspetta per alzare il tasso qualitativo di questa squadra E di fatto in ogni intervista lo ribadisce con forza E allora Cristian parliamo anche della ripresa degli allenamenti Perché come abbiamo detto prima il Bari ha ripreso Ma i gommi li fai vedere i robicicoli Sì un attimo perché ha ripreso a lavorare questo pomeriggio Però come dire a causa dell'ultima amichevole Quella che ha vinto ieri il Bari per 9-0 contro il San Giovanni Tiatino Facciamo così Non so Silvio se tu l'hai visti perché questa è l'occasione anche per far rivedere tutti i gol segnati dal Bari in questa clip musicata Vediamo C'è la clip? Arriva, arriva, arriva È inutile Il gol del Bari non si vedono Non si vedono Quando li segnavano non si vedono Aspettiamo qualche istante Forse c'è qualche problema in regia Chiedo alla regia se è possibile recuperarli Ego, ego, ego Ego, ego Ego, 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 ego Ego, 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 ego Grazie a tutti 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 Grazie a tutti